L'imboscata, il Rosso Juve ha arrotondato il silenzio dei media e procura sui conti disastrati dell'Inter. Chi ne non stupisce? Mistero Douglas Luiz, il futuro di Danilo e il possibile sostituto di Vlaovic. Che cuore infine le Weeman. Un saluto a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Buon venerdì a tutti voi. Comincia, sta per iniziare il weekend di calcio e ne vedremo delle belle perché alla Juventus Rocky ha mandato un arbitro speciale che già abbiamo imparato a conoscere ma di cui parleremo più avanti. In questo caso dobbiamo parlare di quello che si sta smuovendo da parte dei media e non solo perché attenzione chi ne potrebbe risvegliarsi dal letargo. Ce lo dice Andrea Bosco che giustamente si rende conto di come adesso i media stanno trattando la situazione del Rosso in bilancio della Juventus quando non hanno mai assolutamente parlato delle situazioni finanziarie di altre squadre. Se vi ricordate c'erano anche alcuni addetti ai lavori che dicevano ma se non sei esperto di finanza allora non puoi parlare. In questo caso invece direttamente dal giornale di città laggiù parla il giudice e se parla il giudice è giusto che venga messo tutto sulle prime pagine dei giornali. Perché giudice sul bilancio della Juventus e se i dati preliminari saranno definitivi ci saranno dei problemi. A dircelo è inter1908.it ricordiamo che questo sito contribuisce alla audience della Gazzetta dello Sport così almeno cominciamo a capire un pochettino di che cosa si tratta. Come sempre vi invito a mettere un bel like per supportare questo video e aspettare la fine del contenuto per commentare con il vostro pensiero. Ma non dimenticate di farlo ragazzi è molto importante lasciare traccia del nostro passaggio soprattutto far sentire agli altri qual è il nostro pensiero. Basta farci riempire la testa da tutti questi pseudo giornalisti e addetti ai lavori. Iscriviti al canale attiva la campanellina e tutto è totalmente gratuito e servirà a te per rimanere aggiornato e a noi per crescere sempre di più e farci ascoltare ancor più dell'anno scorso. Come voi sapete la Marotta Ling qualche piccolo risultato l'ha avuto anche se Marotta non parla più ai microfoni e questo mi preoccupa tantissimo perché le cose non si dicono le cose si fanno. E chissà che forse Marotta ha imparato anche lo stile giusto per poter fare quel mestiere lì. Non parla più non si fa più sentire il che fa star poco tranquilli perché fino a quando parlava bene o male potevamo farci un'idea delle idee appunto che aveva lui. In questo caso invece non dà più segno di vita si vede che qualcosa sta cambiando. Ma per quel che riguarda invece il racconto che deve andare naturalmente al Popolino è sempre quello. La Juventus che passa da un possibile rosso di 180 milioni di euro ricordiamo anzi inferiore a 180 milioni di euro. Ricordiamo che in questo semestre si chiude l'anno 2023-2024 dove la Juventus paga i più di 100 milioni di euro di scotto per non aver partecipato alla Champions League. In cui la Juventus paga il fatto che comunque essendo stata penalizzata hai molti meno entroiti. Magari anche i tifosi non ti seguono anche perché non seguono la società nel fatto che abbia dovuto accordarsi o come preferiamo chiamarlo noi patteggiare sotto ricatto per delle cose che facevano prima anche le altre squadre e hanno continuato a fare anche durante la penalizzazione della Juventus e dopo la penalizzazione della Juventus. Ricordiamo le 11 plus valenze tra Roma e Inter. Ancora sta indagando chi ne è ma non si sa perché tra l'altro nelle ultime dichiarazioni ha detto che si lui ha lavori da fare il calcio non è il suo principale obiettivo non è il suo principale lavoro e quindi si presta alla FGC quando può in questo caso non può e ragazzi dobbiamo farcene una ragione. Ma che cosa scrive giudice? Innanzitutto chi è giudice? Attenzione intanto accusa e naturalmente quando accusa le pagine dei giornali di città laggiù nonché della Gazzetta dello Sporco, Levelina e De Noartri sono aperte per questi tipi di personaggi. Quindi 90 milioni di euro per Vlaovic, un'operazione che la Juve non avrebbe dovuto sostenere perché è incompatibile già allora con il suo conto economico. Però ragazzi attenzione perché quando noi vi dicevamo ma come fa l'Inter a iscriversi al campionato? Come ti permetti tu di parlare di economia che tu hai la terza elementare, l'asilo, tu non sai nemmeno che cos'è l'istruzione e ti permetti di parlare. In questo caso invece è giudice, ripetiamo, e quando uno è giudice lo dobbiamo ascoltare. Peccato che poi alla fine andiamo a leggere. Intervenuto sulle colonne del Corriere dello Sport, Alessandro Giudice, giornalista, ha analizzato così il bilancio della Juventus. Giornalista? Hai analizzato il bilancio della Juventus? E allora c'ha ragione, c'ha ragione Andrea Bosco che dice quando si parla della Juventus addirittura c'era chi ha detto il bilancio si chiuderà sui 200 milioni di euro. Arrotondato, arrotondiamo in eccesso perché tanto si parla della Juventus. Vi ricordate quando parlavamo del 31,5% di Leon Rock che era scomparso dai radar dopo la cancellazione nelle isole Cayman e che non aveva più già da due o tre anni niente dell'Inter che però risultava sempre a Leon Rock. In quel caso sappiamo che secondo le regole quando superi il 10% della quota e devi dare informazione alla FGC Gravina disse fino a tre giorni prima che venisse fuori tutta questa bolla che esplodesse la bolla, non ne sapevo niente. Io sapevo che era tutto in mano di Leon Rock. Tutto va a finire nella scatola di Octri che anziché prendere il 68% prende il 99, qualcosa. Incredibilmente! Senza sapere come. Però lì non c'è un giornalista che è andato ad analizzare no, lì c'erano i youtuber che venivano minacciati dagli amici di Scarafaggigetto, la Blatta che ancora parla, lo Stercoraro così come tutti gli altri che anziché andare a controbattere la notizia controbattono chi porta la notizia o lo attaccano direttamente sul personale. Questi sono parassiti, sappiamo, ormai abbiamo imparato a conoscere. Scarafaggigetto, il nero azzurro per eccellenza è quello che, diciamo, tiene ancora duro perché gli altri hanno mollato, hanno capito anche perché qualcuno è stato raggiunto da qualche letterina da parte di un avvocato e magari non succederà niente però intanto ci devi mettere l'avvocato e poi andiamo avanti qualche mese, qualche anno non c'è problema ma lo devi pagare dovete pagare Scarafaggigetto anche tu quindi loro potevano parlare per quello che riguarda Calciopoli e tutto il resto della Juventus quando tu invece parli o qualcuno vuole informare perché questo canale fa proprio questo informa i tifosi juventini dei tifosi delle altre squadre non mi interessa ringrazio i milanisti che vengono e che mi supportano ma al momento in cui succederà qualcosa che va a toccare il Milan e ne parlerò voglio vedere se loro rimarranno ancora come stanno facendo è effettivamente successo una volta e mi hanno dato anche ragione quindi questo mi sta stupendo incredibilmente ma il mio intento è quello di risvegliare il sentimento popolare juventino che si è assopito ed è per questo che tiro fuori tutte le porcate delle altre squadre se in questo momento è solo la squadra di città laggiù che fa le porcate non è colpa mia questo serve per risvegliare i tifosi che ormai sentendosi sempre accusati denigrati e insultati avevano cominciato anche a smettere di tifare incredibilmente smettere di tifare la squadra che ha più tifosi in Italia aveva smesso di tifare la Juve nel mio piccolo 17.000 più o meno siamo persone sono riuscito a risvegliarle ci sono altri che hanno preso l'esempio e che ne hanno risvegliate altri 17.000 20.000 50.000 1.500 anche 10 l'importante è che cominciate a capire che dobbiamo sostenere la Juventus e tifare e soprattutto dobbiamo tirar fuori il marcio che c'è nel calcio perché non è la Juventus e il marcio ma è il sistema e chi questo sistema lo porta avanti cioè i media i media chi ti racconta le cose perché un rosso in bilancio che è grave perché è grave ma si sa che è dato dal fatto che viene dagli investimenti che la Juventus sta facendo più dal lavoro fatto da gravina per cercare di salvare il brand ricordiamo 10 punti di penalizzazione poi con l'amico Ceferin che fa la guerra ad Agnelli diventano 16 perché non partecipi a nessuna Coppa Europea e perdi 100 milioni avessi avuto questo al di là sarebbe stato totalmente diverso però nessuno pensa che al prossimo semestre la Juventus avrà gli introiti di tutte le coppe in cui partecipa più tutto quello del calcio mercato di quest'anno e mentre l'Inter ha avuto un più come dicono loro perché adesso sono ricchissimi è perché hanno contato i quasi non so se sono 90 milioni o 60 milioni di plus valenze fatte dall'anno scorso nell'anno precedente ma quest'anno hanno fatto 18 milioni se non sbaglio nel prossimo semestre voglio vedere com'è che saranno le situazioni perché il CDA della Juventus approverà sicuramente questo bilancio perché sa già che nel prossimo semestre entreranno dei soldi i soldi della Champions i soldi delle Coppe i soldi del calcio mercato perché ricordiamo che il bilancio si fa da giugno a giugno quindi già il calcio mercato di agosto non c'è però giustamente non tutti possono sapere delle cose l'importante è che ti chiami giudice e sulle prime pagine dei giornali online di città laggiù scrivono giudice parla del bilancio della Juventus allora uno dice parla un giudice andiamo a sentire che cosa sta dicendo e poi scopri che giudice è un giornalista e tra l'altro ricordiamo che per quel che riguarda l'affare dossieraggio ci sono stati dei giornalisti che erano in mezzo alla Cosca che facevano uscire fuori le notizie che ancora erano in mano dei PM e chissà che magari qualcuno di questi giornalisti tra questo e quello che tirò fuori il certificato medico ve lo ricordate il certificato medico di Copminers stress e anche quel giornalista lì come fa a sapere determinate cose chi gli passa queste notizie e allora allora è vero che c'è l'imboscata contro la Juventus perché qualsiasi cosa fa la Juventus in media devono andare a raccontare che è uno scandalo però ragazzi per quel che riguarda le altre squadre lo sappiamo è tutto lecito al massimo diventa goliardia come una squadra che viene pignorata e ricordiamo che 400 erano i milioni di debito da parte di Zhang nei confronti di Oc3 ma 200 erano stati i milioni prestati quindi l'Inter è stata pignorata per 200 milioni 200 milioni questo è il valore della squadra di città laggiù e pensare che l'Oster Coraro porta avanti ancora la sua pallina di cacca convinto che sia un tesoro che vale un valore inestimabile detto questo noi ci vediamo al prossimo contenuto mi raccomando se siete arrivati fino a qua e volete risparmiare dei soldi caccioking.com nel primo commento in evidenza troverete tutto quello che vi serve per visitare il sito noi ci vediamo al prossimo contenuto ciao aio ciao